a subito neanche 3 2 1 via preso la bandiera è nel loro obiettivo davanti a noi ragazzi dovete prendere la bandiera che è nel loro obiettivo ok andiamo a prenderla stiamo lì, andiamo a prenderla stiamo noi rosso rosso sto prendendo io e faccio il giro da dietro ripeto, facciamo il giro da dietro dal casottino cazzo è lì eh 3 2 1 via vanno a scala B2 sulla sinistra vanno a scala fuoco guarda che sei morto preso c'è fuoco 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 rimm fuoco vuoi buon lavoro vieni guarda che cosa buon lavoro guarda guarda che cosa guarda che cosa guarda che cosa guarda l'area hanno preso? a tutti i rossi la bandiera è stata presa ripeto bandiera è stata presa fuoco devi dirmi quando mi miri non quando non interteggi però bravo adesso l'impianto che si è più là Rosso, 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 rosso! Ok, copritemi in quattro, vai! Vai! Aspetta! Oh, io vado solo a coprire! Andata! Ecco! Andata! 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 Fokkufokkufokkufokkuuu! Ciao! Altanna! Liar! poco poco è nel garage ho preso, ho preso, ho preso, libero, libero occhio, occhio ok, ok, rosso, rosso, rosso pi swing no, mi ricchiaro, ma non t'ha stato che cosa stia? e che thing, cristiano? Ragazzi, sono nella merda, sperate! Preso! La merda, sperate! Grazie a tutti.